Mocca, smettila, smettila, c'è la sedia con il signorino sotto Facciamo che mi slego i capelli perché qui così sono arrendi Ciao, ho cambiato di nuovo sfondo, c'è la sistemazione della scrivania e delle librerie Mi sono accucciata in questo angolino e col rischio di far ovviamente cadere tutto E qui c'è lo schifo assurdo sotto la finestra e rimarrà così Chi mi conosce su questo canale sa benissimo che io ho sempre collezionato o collezionavo manga da tempo Però se io avessi tenuto tutto quello che ho comprato negli anni, questa sanza non basterebbe Solo che ho rivenduto, ho comprato, ho rivenduto, letto, non letto, ho avuto tanti blocchi Ne ho uno tuttora, vado da un mese a mese, un mese leggo, un mese non leggo Leggo libri, non leggo libri, infatti ci sono anche i libri di là però quelli sono un'altra cosa Ho qualcosa qua su, chi mi è rimasto, che ho deciso di lasciare qua su L'altro è tutto manga E poi c'è la cosa dei Funko Pop di Mario Academia No, sono un po' sozziglia Quindi ho deciso di accucciarmi qui e di risistemare un po' la collezione Decideremo oggi in live che cosa terrò e cosa non terrò Questo perché ho deciso di aprire un canale Twitch Un po' stupido, cioè in realtà non ci faccio niente Ogni tanto vado in live e basta, cioè senza pretese Ci guardiamo qualcosa insieme e basta, chiacchieriamo Ancora non è che io sia famosa o conosco molta gente In realtà non conosco nessuna vita reale, né nella vita virtuale Cioè nel digitale, diciamo Quindi va bene così Non è un problema, parlo anche da sola È uno sfogo, è proprio Io uso questo canale per sfogarmi, l'ho già detto tante volte Per sfogarmi, per cercare di avere, di tornare a essere più creativa Questa porta fa cadere Ah, perché c'è la libreria dello schifo qua dietro Ovviamente C'è Moka, che è sotto il mio computer Perché c'è la scatola, se vi faccio vedere Eccola qui E questa è la mia stifosissima postazione Che funziona Perché per ora funziona Ho il mio Mac MacBook Pro Portatile Perché ho un MacBook appunto Non ho PC fisso e non ho intenzione di comprarlo Vabbè E poi ho preso Scusate, questa sedia di merda Ho preso un Un altro monitor Per Questo l'ho preso A 90 euro Però l'ho preso con Cofidis Quindi l'ho preso a rate Da 17 euro Per sei mesi Così, tanto per Per non pagarlo tanto Non di botto Non mi importava Per non so se tenerlo Perché ancora i 14 giorni Non sono passati Però devo ancora Perché comunque Vedo che non me lo Che riesco a Stare meglio A A dividermi meglio Con due schermi Perché comunque questo è Un Un computer portatile Non è neanche così grande Quindi Quindi ho deciso di prendere questo È della Arzopa Arzopa Non so Oddio Quanto sono stupida Allora Ignorante Non stupida Ignorante in materia Perché non ne so proprio niente Poi questa ce l'avevo Ce l'avevo già Questa telecamera Da Da casa dei miei Quindi l'ho tenuta E l'ho messa Sopra qui Prima era sopra qui Questo era per il mio telefono Comunque Sotto c'è In dotazione Un gatto L'ho tenuto In questa scatola qui Non il gatto Il computer Perché Tende a riscaldarsi Un po' Un bel po' E quindi Ancora non ho comprato Quella l'intenzione Di prenderlo Non ho comprato La ventolina Però Per ora Mi arrangio così E ho questo Che mi tiene tutti i fili Là ci ha attaccato La luce Nel caso che Ho bisogno di luce Laggiù c'è la presa Che utilizzerò Per il computer E qui c'è un'altra presa Quindi Dietro c'è un'altra presa E quindi Niente Vediamo Qui Ho messo Questa è un'altra Lucina Ma Non credo di utilizzarla Perché è a forma di luna Qua ci sono le mie agende Che ho deciso di spostare qui Nel lato E questa È tutta la libreria Qui ho messo Le cose in corso E che sono Vabbè Le cose in corso E c'è Demon Slayer Vabbè È molto carino Qua Questo archetto Qui Quindi l'ho lasciato così Un po' di cosine Con tre volumi E roba comunque In corso Appunto Mi sono riuscita Oggi mi sono arrivati I monologhi Che non trovavo Adesso ce li ho Qui C'è Questo decapitato C'è un decapitato È senza un braccio Nulla C'è numero 5 Di The Ombrella Academy Questi sono appunto Quelli che sto leggendo Che riesco Che proprio voglio leggere E gli altri C'è roba così Questo penso che lo venderò Perché non mi piace C'è Food Wars Un paio di Funko Pop In giro Libri Scatole di Xbox E Switch Qua ci sono di Shoto E Qua Vabbè Mairo Che è la parte più alta Quindi andava per forza qui Mairo Perché Ho i Funko Ho i Funko E la La figure E qui ho messo anche IQ Che è comunque grande Quindi Ci stava qui Nello spazio Molto più grande Blackover Non ragami Le Sable Le Sins Con il suo Funko Pop E un po' Un po' di robe Che a parte Mirai Nikki Che sto leggendo adesso Un po' di roba così E qua ci sono i mini Funko Pop Tutti di Mairo Che in realtà La maggior parte Allora Li venderei Tipo questi di sotto Che ho tenuto girati Però Tanto per farci 5 euro 5 euro Non avrebbe senso Quindi Per farci 5 euro Non avrebbe senso E quindi Li tengo E basta Quindi Il mio nome È sempre Iredaily Su Twitch C'è un avatar Che fa così Ovviamente Non ovviamente Comunque Faccio sempre così Quindi così Andavo fatto il mio avatar L'ho fatto con la I Con l'intelligenza artificiale Nulla Seguitemi Seguitemi anche lì Sicuramente Solitamente Li faccio la sera Ogni tanto Li faccio anche su TikTok Però Il mio telefono Si surriscalda Un sacco Quindi Perché si spento Ah perché scarico Sto scaricando Ok Questa è buona Io Ogni volta cambio lo schermo Anche qui Non ha niente Ogni volta cambio lo schermo E Oh cavolo Mi si toglie Già collegato Io sposto Il OBS Qui OBS Qui E Le cose Qui Guardo Mi è più oltre Più comodo Quindi Se volete Chiacchierare Io Verso le Tipo adesso Che sono Le sette Verso le sette Per un'oretta O Anche più tardi Alle volte Quando Alle otto Alle nove Dalle otto Alle nove Solitamente Perché poi Io sono Poi mi Non Non più di un'oretta Perché comunque Non ci pare il tempo Sto da sola Quindi mi scoccio Mi voglio spostare Sul Sul divano Non sul letto Ciao